Beb, c'è mangiare i spaghetti? S'ha le cose? No, no, le moglie lasciamo a casa, eh? Mamma, che bella pelliccia che c'è! Chi ti ha regaletti? Il babbo? Sera per l'ho e non c'eri manca te. Mamma, il mio ragazzo mi bacia solo nell'ombelico. Metti i tachi! La signora telefona al dottore. Dottore, il mio marito sei giorni c'ha la febbre. Ho paura che sia grave. Signora, faccia le corna. Sfusa per quel campanile a cent'anni. Grazie.